Non è vero, a parte che adesso... Ma la sole è nero, incredibile! Ma sei... Che paura, Luke! Ma questo qui è Luke che parla! È Luke Darko! Ma io non voglio che sia in un video di gatto! È Luke Darko, perché ruba le bici! Tripla dub! No, nel vostro non deve parlare, accetto il leader, aspetta! Anzi, sono stato anche nel nostro! Luke, mi piacerebbe! Ciao, sono Luke che... Che gain, perché? O, G, O, G, O, G, O, N! Non siete proprio dei grammi educati! Io ve lo dico! Non si trovano partite oggi! Non si trovano partite oggi! Non va, non va, guarda! Non la trova! Gatto, mappa nuova! E' trick! Me l'ha tirata? Io prendo lo Ying, che è la nuova personaggia che fa un grappolo di gangbang che può essere raccolata... Sei altissimo, Gatto! Scusami! Lancia delle flashbang! Lancia delle flashbang! C'era bisogno! Ha un bel suono quando le lanci! Oppure le puoi lanciare anche come granata! Ah, Gatto, se la tieni premuta ti caricherà delle barrette! E la quantità di piste... Le puoi lanciare! Andiamo! Ma non ho capito! Devo avere una laurea per usare queste cose! Certo! Ma devi essere cinelle! Vabbè, allora... Guarda questo qui in braghette gioca! Ma come mai? C'hai i pantaloni alla zuava, Gatto! Mi cerchi una foto dei pantaloni alla zuava! E li troverò! In saltafossi qua! Ma lo fanno lo spawn killing! Secondo me lo fanno lo spawn killing! Ma non sanno che hanno di qua Marco D squared! Eh, non posso vedere la... C'è mira là! Attenti che c'è mira lì! E di qua è aperto, eh! Ah, non c'ho il mirino, è vero? Perché è personaggio nuovo? E niente! Lancio! Aspettate, aspettate! E tre, 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 tre! Oh mamma mia! Quindi ho vinto! Marco dicevi che tenendo la caricata cosa fa? Ehm... Ti... Ti tira più robe in teoria dentro! Ti tira più granate! Eeeh! Scemo! Che male! Ti pensiero di abbraccio! Che male Marco che consigli di merda che mi dai! Eh no, è giusto il consiglio! Come che? Se l'hai fatto esplodere in mano! Ahia, niente! Mi ha ucciso la signorina nuova! Siamo nelle mani di Luke e Mark! Aspetta Luke! Luke ha ucciso una ringhiera! E attento Luke! Oh, che miseria! Buona! Oh, bravissimo! Ah no! Ehm... Cos'è? E' matto! Dice le cose! Goditi la musica Marco! Bello! Eccolo, hai visto! Cattavia... Mamma mia! Me la son persa! Beh! Non ti fidi di me! Ma ho visto questa che non è stata niente male! Complimenti! Eccolo! Bestia! Togli quel filo spianato, per favore! Eccolo! Buono! Bestia Beach! Credo sia sopra comunque l'altro! Aia! Cosa succede? La devo togliere! E' la nuova cosa di... Togliere la spina dal piede sennò... Scusa, sei un leone il topo? E' tutti e due lui! Sei il leone che il topo! Aspetta, c'è un laser! E' qua di fianco! Sì! O in alto forse! O forse in alto! Aspetta! Lo sapevo! Torni indietro! Torni indietro! Che vomito! Sento, Luco! Buona, Luco! Bravissimi! Sì, abbiamo vinto per davvero, Luco! Bravissimi! Però c'hai tre spine nel piede, Luco! Guarda di tutto verde! Ah, Gatto! Quella cosa che hai visto prima... Non quella della spina! Quella che ero fermo, non vedevo più niente! Eh, non è una flashback! E' la signorina e' la Weber! Scusami! E' la signorina e' la Weber! Una mina stortente! Che adesso andrai a prendere, Gatto! Che prendo giusto questo! Bravissimo! Io prendo l'altro! E dopo ci switchiamo! E' che non c'ho... Lei praticamente mette dei pistoloni con il pongo sotto, attaccati in prossimità delle porte, in genere si mette! Potresti descrivere meglio questi pistoloni con il pongo? C'è del pongo sotto e c'è un dozzo... E' un bildo infilato nel pongo! E non so come altro descrivertelo, adesso guarderai tu! Il pongo funge da adesino! Allora attaccalo vicino alle porte, in prossimità, vieni qua Gatto! In prossimità! O qua o ai lati! Quanti è? Guarda! Dimmi cos'è! Era effettivamente quella cosa molto volgare che hai detto prima, bravo! E questa cosa qui stordisce, però non fa danno se non ricordo mai, o forse fa dieci... No, non fa danno! E allora li metto in prossimità delle porte, basta! Eh, in posti chiusi, possibilmente! Ma quanti terroni, oh! Quanti terroni, oh! Quanti terroni, oh! L'ha detto! Oh, è stato anche quello! Tutti volgari e gran maleducati, ma che fucile è sto qua? Ah, no! Ho effettivamente sentito tutti i terroni... Ah, ma non ti sei messo i mirini né i cosi! Eh no! E quello è il problema! Quella è una brutta cosa che hai fatto! Eh, lo so, lo dissi! Ah, mi hanno personalizzato il fosforo! Aspetta, eh! Allora, mi metto un altro di questi cazzi qua! Ma guarda lì come si gonfia! I cazzi! Eh sì! Stai buono, stai! Qui lo tolgo! Non ti riturpiloqui! Scusa, ma tu hai detto! Eh sì! Beh! Eh sì! Anche qui sotto, eh! Era sparecchievole quella persona lì! Ok, sparano di qui! Vent'anni che non gioco mi sono messo a registrare, è una bella idea questa! Allora, c'è gente qua, sono in tre qui dove l'ho taggato! Non è qualche rana da tirare! Anche l'altro! Ah, me l'ho rotta! Uno l'altro l'ho ucciso! Guarda c'è uno a terra lì! Da un claymore, claymore lì! Eh beh, a sto punto farò giocare è tutto male! Ah no, mi hai ciullato la kill! Beh, tu hai testa! Ha vinto lui, ha vinto! Vengo a vedere se c'è qualcosa da fare! Ah, fin mezzo mi ha ciullato la kill! Ma guarda! Buongiorno! Dov'è andato? Cazzo, sono andato via! Marco c'è un altro sotto! Eh no, sono morto io! Moro, moro, moro! Oh, finalmente sfondano qui! Al muro, al muro! Ce ne sono due lì eh! Ok! È rimasto uno! Non so se... Ultimo! Cazzo, io controllo di qui! Eh, l'ho uccisa io! Perfetto, grazie! Ho fatto qualcosa anche io! Dai, dai! Nel mio video! Adesso vedrai che nel mio io non farò niente e tu farei 5 kill! Vale! E beh, perché nel tuo avrò il mirino! Se volete vedere com'è andata... Allora, uso Twitch TV! Va bene? Bravo! Che cazzo che ti pare? Me ne frega assolutamente niente! Mi prendo Thermite! Gatto, mi raccomando col lavoro di braccio eh! Sentiti molto signore che ha la bocciofila! Non sono nel garage, Marco! Girati! Non sono nel garage, mi giro! Sono sopra! Sono sotto allora! Sotto per gli eversi! Ma io sono andato sopra! O sopra o sotto! Decidetevi! Sopra c'è la spossa! C'è caviera! Sopra c'è la spossa! Sopra c'è la spossa! Eccoli qua! Li ho trovati! Sgamatissimi! Il gammio della nonna! Io! È rinforzato! Io posso scannare! Dai, dai! Che io lancio dentro la gangbang! Lo puoi fare già! Dai! Dai! Come lo puoi fare già? Devi piazzarla tipo Fuse! Eh no, è rinforzato eh! Ah ok, allora no! Ma qui sulle finestre è libera? Le! Juk, puoi rompere tu? Non hai scoperto! Eccola! Vabbè, allora! Aspettare un po' anche sotto! Cazzo! Sì! Sì, comunque uno è dentro dove stavo rompendo io! Ci penso io Moro! Ci penso io Moro! 5 di vita! Mettetevi gli occhiali! Perché lì! Oh! Perché non è ma... Ho ucciso anche te! Ma te sei uno stronzo! Ma dai! Sei andato davanti il mio... Ma la stavo ammazzando! Ma guardate! Ti stavo trattando! Ma non è vero! Guarda! Rattata! Ero vivissimo! Ero vaffanculo! Ma non ne rivivo una sega! Non ne rivivo! Ma guarda te! Ho colpito! Ho visto uno passare qua! Ti muovi su! L'ho taggata! Ok! Abbiamo vinto! Bravi tutti! Bella zii! Siamo fortissimi! Bella zii! Stai tranquillo! Che divertimo! Gatto perché c'hai più punti di me che hai fatto due chili in meno? E' perché io sono stato ucciso da Moro! E niente è già finito! Eh si è già finita! Siamo fortissimi gatto! Guarda come ho gli occhi sbarellati! Guarda che paura! 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 Basta un po'! E però io non ho provato la terza! E quindi? E quindi? Va posta così? Fatta gatto! Che ci vuoi fare? Vabbè dai! Fai un video più corto! Tanto che ti frega te! Youtube non fa guadagnare adesso! E c'hai ragione! Guarda! Si stava meglio quando si stava seduti! Provi in conto i bot! Provi i giornamenti pronti per la consegna! Non eravamo contenti! Ne facciamo un'altra! Così posso usare questo qui! Così adesso perdiamo la mappa nuova! Adesso perdiamo 3-0! L'ha detto Moro eh! Facciamo un'altra che abbiamo vinto! Anche se non arriva la mappa nuova! Gatto! Ora è con niente! Non è la mappa nuova! Va tirata! Se non arriva quindi cosa stavi dicendo? Ti ammazzi! Niente! Purtroppo niente! Adesso ti butti dal balcone! No salvataggio no! Ma che palle! Un po' di varietà in questi gameplay! Adesso vuoi usare la sua seconda abilità! Quella di poter trapanare e forare e infilare! Devi avvicinarti molto alla finestra! Mi raccomando non fare l'errore mio di prima! Come Fiuzzo! Più o meno! Devi avvicinarsi di più eh! Te lo dico! E Fiuzzo si attacca al muro! Avvicinarmi più cosa faccio? Entro nel muro scusa! Ti avvicino abbastanza te la prendi in mano per tirarla e basta! Infatti prima sono avvicinato abbastanza ma me l'ha tirata per terra! Le mani di merda c'hai! Non era abbastanza! Una lavatrice che storia! Wow! Non era così eccezionale! Mi sono emozionato gatto va bene! C'erano dei rotolacampo che rotolava! Guarda te che li ho trovati! Ma dai mi hai muovato! Scemi di merda! Succa! Succa! Guarda adesso arrivo io! E non mi stanno colpendo perché sono delle seghe! Aiuto! L'ha detto! Ora vado di sopra! Guarda che non distruggono le telecamere mortacci vostre! Ma chi le conosce le telecamere? Questo mi chiama un gioco di stella! Da dove? Da dove? Sponchino! Sponchino! Merda! Farò caso! Non è morto! Non me la fa usare qua la ravanamento! Ah no si! Bellissimo! Grandissimo Giorgio! Eh mamma mia ha fatto tutto lei! Ma lì non c'è nessuno! Fuori c'è nessuno! Fuori c'è nessuno! C'era anche Marco! Eh che imbarazzo! Eh c'è cianca! Vabbè allora arrivo Marco! Eh è mollato allora! Lo farà anche qua? Lo fa anche qua che figata! Anche nel pavimenti! Lo fa anche qua che figata! Anche nel pavimenti! Vi ho cercati! Non ho farlo caso! Come a caso? Ero soprallettivo ero! Che palle! Il netcode e gli hitbox! Insomma! Aiuto! Come va Marco? Eh non muoio! E c'è la sinistra Luke! Ok io non è andato! Che dove? Ah no! L'ho ucciso! Bravo! È davanti a me! È una granita! Non sparate a me! Sparano a te! Ti accegano! Portalo via! Lo porto via io! Arrivederci! Arrivederci! Salve! Aia! Che figura! Dovevi portarlo verso Luke! E questo qui! Bravo! Mamma mia che tarda! Bravi tutti! Siamo niente! Siamo... Paoma! Ladies and gentlemen azioni! Siamo on the fire! Yes! Tanana! Che maestria Luke! L'abbiamo uccisi in lo stesso momento! Ma l'hai ucciso tu Luke poi! In lo stesso momento l'abbiamo ucciso! Ma infatti nella... Se guardi nel log... All'ultima è la mano! E che lavoro fa lesione Marco? In giro con i pantaloncini! Mette questi pizzoccheri... Oltre ad andare in giro con i Bermuda... Mette questi pizzoccheri... Per terra! Se uno ci finisce sopra... Si fa male... Inizia a perdere vita... Gradualmente... Finchè non se lo toglie! E se non se lo toglie? Muore piano piano! Perché tutto è violenato! E si ricaricano all'infinito! Giusto? Si! Però molto lentamente! Il potere segreto di... E magari sono nati qui! Quello di avere un pessimo gusto per la moda! Esatto! E io non posso vedere ma sono in brachette cortissime! Ma anch'io volevo farlo! Mi hai anticipato! Ah è l'ambo! Invece l'ho fatto io! No! Siete bravi tutti e due! Che accade? Che accade? Marco perché l'hai fatto? Ma Marco mi hai passato uno davanti! Ma te sei pazzo! Lo so! Ma che cazzo? Ma questo qua è scemo! Dai! L'ho quasi fatto Edshot! C'ha pochissima vita! E te sei pirla sei! Non andare! E non vado no! E sopra eh! Dai la passo su! Forse lo becchi dall'altra finestra! Dai 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 dai! Eccolo! Luke credo abbiano sfondato qualcosa! Non sono sicuro! Non da me quindi! Eccolo! E niente! Porca troia! Eh grazie! Forse il mio fucile a pompa spara delle graffette! Arriva da qua! Guardate che quello che ho colpito aveva un cazzo di vita eh! Che kills! E non vado adesso a togliere la ciappola! Eccolo! Oh! E te l'avevo detto che non c'aveva vita! Mamia! Io faccio wow! Che mai wow! Ibana in giapponese si legge wow! Non credo! Allora ho sbagliato qualcosa! Io me ne intendo sono cinese! Hai fatto il corso giapponese via mail per caso! Si! Al cepu! Come del Piero! Eccolo! Ma quanto lagava questo signorino? Esistono ancora le battute sul cepu? Non era vero! E tutti i calciatori di sto mondo! Ma in realtà dubito! Credo fosse una pubblicità ma... Eh che cazzo! Dubito che del Piero abbia mai parlato con un uccello! Però... Che sai te! Magari l'ha fatto! Ma sono gusti e fatti suori! In intimità l'ha fatto! Magari però! Lui ci parla! Non è che capì! Cioè magari si inventava quello che diceva! Dubito che Totti non sapesse dire la prima cosa qua al gusto di limon! Secondo me non lo sapeva dire! Sono lì secondo me non lo sapeva dire! Era bene! Sono andati nella stanza quella ovale! Quella dove... Quella del presidente! Non so come spiegarvi! Ma sono al piano sopra o sotto? Sotto! Dove eravamo noi! E allora vaffanculo! Ah facciamo così! Ecco! Fermati! Fermati lì! Ecco spara! Si bravo! Aia! Dietro di me! Porca troia! Guarda che è con un diversivo Mark! Guarda di come non me ne sono accorto! Ho ucciso! Ho tirato la granata all'ostaggio! Gli ho fatto danno! Ma porca troia! Uno è nell'angolino! Aia da dietro! Mamma mia! Uno dietro l'altro proprio! Moro dietro! Eh dietro... E dove sto mirando! Dalle scale! Dalle scale! Dalle scale che salgono! Mark a destra! Ho sentito! Bravo! Che figura! Bravo! Che figura! Cosa è una granata per aprire? Ma scemo! Guarda che quello è il bagno! Che cazzo fai? Non c'è nessuno qua! Tu ne sai? Era qui prima Gigi! Destra o sinistra! Cazzo! Semi destra! Era proprio a destra! Cazzo! Te lo dico io! Fidati! Eh lo so! Mi son fidato dei proiettili! Che dritto c'è qualcuno! No! Quello stagio! Che sta facendo trasloco! Aspetta! Guarda in fondo sotto il pupo! No! È il tuo cadavere Luke! Listo! Ok! Mamma mia! Bravissimo! Bravissimo! Sono proprio bravi a fare un gioco di squadro! E io non ho fatto assolutamente niente in questa partita! Sono contento! Vabbè dai! Però c'ero! Non tutti i muri posso mai stare con la ciambella! Come stai! Due vittorie perfette! Gatto! Siamo fortissimi! Ma quanto sono dritto! Sono drittissimo! Sono drittissimo! Non puoi essere così impressionato! Ero troppo duro! Guarda i banni a quello impazzato! Che sta guardando male Blackbird! Troppo! Che imbarazzo! Censurerò i risultati! Perché mi vergogno tanto! Che vici 40! E vabbè allora vado via! Te lo salutiamo! Vado via! Wow cazzo! Eh che cazzo però! Che difficoltà a registrare sto gioco di merda! Eh però è stato divertente! Eh sì! Mi ha fatto molto piacere! È stato divertente mangiare con Maria! Abbiamo un demente che il vento portavi! Costanzo che se ne va via! Testa di... Stronchino! Addio! Addio! A padre mio! Testa di cu! Testa bastardino! Melch in cu! Sono scappato! Grazie per avermi registrato l'outro! Ma dai! Ha! Dai!